Amore, amore! Oddio, che è? È arrivata questa! E che cos'è? Una brutta notizia! Come una brutta notizia? Non dirmi che è arrivata un'altra multa! Ma quale multa? Peggio, amore, peggio! Peggio di una multa! Non mi dire che è l'agenzia delle entrate! No, è l'agenzia delle entrate! Ma che agenzia delle entrate? È molto peggio! Ma cosa può esserci di peggio dell'agenzia delle entrate, tesoro? Hai presente la mia amica Chiara? Sì, allora, cos'è successo? Si sposa! Auguri! E quale sarebbe la brutta notizia? È che ci ha invitati! Ad agosto! No! Ad agosto, no! Tesoro, fingiamoci malati! Ma che malati! Sì, e poi tutte e due insieme? Contromossa! Sposiamoci anche noi, ad agosto, lo stesso giorno! Noi siamo già sposati da un anno! Ah, già! E la lista notte? Sai dove l'hanno fatta? In agenzia viaggi! Oh, come l'agenzia viaggi? No! No! L'agenzia viaggi, tesoro! Ce l'ho! Ce l'ho! L'agenzia viaggi! L'agenzia viaggi, tesoro! L'agenzia viaggi! Ciao, amore! Sei passato in agenzia per il loro viaggio di notte? Certo! Ecco qua! Ma... Amore! Questo non è il loro viaggio! Appunto, tesoro! Appunto! Caraibi, arriviamo! La, 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 la! Carai, dui! La, 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 la! La!